suonare a memoria per i pianisti è ormai quasi un must un obbligo in quasi tutti i concorsi internazionali è obbligatorio ovviamente suonare a memoria ma perché certo è evidente che un professionista un concertista deve conoscere il brano che suona a memoria e questo è una cosa inevitabile implicito però il fatto di suonare a memoria spesso è legato anche al gesto l'importanza della gestualità chiaro che un pianista che mentre suona è lì a guardare la partitura a voltare le pagine dall'idea di essere meno se vogliamo si immerso nella musica e più attento a vedere che nota deve suonare e non è certo questo quello che noi ci aspettiamo da un concertista però è anche vero che chi di noi non ha ascoltato dei concerti di grandi artisti che sono stati rovinati ad esempio da i vuoti di memoria di questi grandi artisti non soltanto in tardità è successo anche a giovani nel pieno della loro forma fisica e mentale perché può succedere a tutti e quante volte anche nei concorsi ho visto grandissimi talenti rovinare la loro performance a causa di un voto di memoria non tanto perché quel voto di memoria ha portato la giuria a eliminarli ma perché poi dopo il voto di memoria hanno sono nato sempre peggio in quanto non si davano pace di avere avuto questa defiance e allora quando ho avuto alcuni mesi fa l'incarico di aggiornare il regolamento del concorso rina salagallo di monza di cui sono onorato di essere anche presidente della giuria ho proposto ed è stata accolta questa mia proposta di togliere dal regolamento l'obbligo per i candidati di suonare tutto memoria che non vuol dire che ci aspettiamo di tutti i suoi neanche lo spartito ma vuol dire che se c'è qualcuno che magari in un brano determinato ad esempio non so l'arte della fuga o la hammer clavier o studi ligati preferisce usare lo spartito o magari perché no l'ipad lo può fare perché io trovo che in un concorso non si cerchi il gesto mnemonico la performance di chi riesce a ricordarsi tutto ma cerchiamo l'artista cerchiamo chi ha qualcosa da dire di vero e non importa se quello se lo ricorda a memoria o se per esprimersi meglio preferisce la tranquillità di avere come dire una rete di sicurezza come un trapezista che si esibisce camminando su una corda ma con la rete di sicurezza sotto sapendo che se casca non muore ugualmente un pianista può suonare un brano difficile da memorizzare che sa a memoria ma magari si tiene un tablet lì perché sa che se c'è qualcosa non dovrà fermarsi perché comunque ha come dire un appiglio poi naturalmente c'è da fare un ragionamento invece che così importante sulla cura sull'accortezza sui dettagli che noi memorizziamo perché molto spesso pur di suonare a memoria un brano ci scordiamo di tantissimi dettagli di quel brano dell'articolazione della dinamica ci scordiamo a volte anche della durata delle note ci scordiamo di dove arriva un crescendo quindi rischiamo di perdere realtà dalla nostra memoria una parte importante per esempio in una sonata di beethoven l'articolazione originale è parte del linguaggio per dominiamo se noi ricordiamo le note ma non ricordiamo se sono staccate o legate o dove arriva un crescendo se c'è un piano improvviso perché per noi la memoria soltanto ricordare più o meno la frase ma comunque le note quella non è una buona esecuzione molto meglio un'esecuzione con la partitura ma accurata e non a caso finalmente oggi è finita questa tendenza di dovere per forza suonare memoria vediamo sempre più spesso artisti grandi artisti non so uno dei primi stato sia da slichter ma oggi molto spesso christian zimmerman mark andrea hamlin alexander longquist e recentemente anche giovani come ad esempio boris gilburg suonano anche brani classici e romantici non soltanto quelli contemporanei con l'ipad certo perché meglio l'ipad secondo me di una partitura con il volta pagine perché l'ipad si può facilmente abbassare quindi effettivamente se il pezzo lo spiego bene vogliamo avere solo un minimo diciamo di di sicurezza possiamo tenerlo qui magari nascosto anche sotto togliendo l'eggio che quindi neanche si vede dalla platea in alcuni creati e comunque avendo magari un pedale bluetooth per voltare le pagine non dovremmo distogliere l'ascoltatore con dei gesti necessari a voltare pagina perché possiamo far fare tutto al bluetooth o magari avere un volta pagine in remoto quindi un'altra persona fidata molto fidata che con un computer che duplica lo schermo su un ipad ci volterà le pagine senza che nessuno lo sappia e senza che noi dobbiamo neanche preoccuparci di voltare le pagine con il pedale bluetooth insomma piccole riflessioni io personalmente continuo a suonare di solito a memoria però per esempio per la musica da camera o se devo fare dei brani del 900 o se voglio proprio stare tranquillo perché in quel momento voglio essere più tranquillo avere l'ipad e non mi sento in colpa e voglio che neanche concorrenti del concorso di monza si sentano in colpa e invece voglio che tutti i musicisti facciano più attenzione ai dettagli alla musica e non soltanto ad un inutile sfoggio di memoria e quindi Grazie a tutti